giovedì della prossima giovedì oppure venerdì non so giovedì o venerdì della prossima settimana vi shoppo col sfidante e come sempre io mantengo le promesse col sfidante shoppato ciao ragazzi sono ninja hyper e ora mi sono appena shoppato la skin più bella di colt dai non dico più bella del mondo da tutte però questa è bella figa è come se costasse 80 gemme visto che il costo era di 5 euro e 49 e adesso andremo a provare in game in amichevole perché volevo farvi vedere delle mie mappe che ho creato poi ho inviato sta mappa e già quattro voti su dieci e che volevo dire bene così mi vado a fare una rapina però metto la seconda star power e andiamo con la partita giù ragazzi questa skin mai provata mai vista c'è io solamente shoppata e adesso ci voglio fare un video vabbè questa qui ragazzi è la mia mappa c'è un po' di ca... c'è tutti i teletrosporti e vabbè un po' di ca... c'è tutti i teletrosporti nel salterello blu e poi ti teletrosporti un po' di ca... nella casta nemica e non è sta bene così ecco qua ragazzi vedete troppo figo facile... le partite durano poco infatti e vabbè adesso ragazzi la vinciamo basta che ci teletrosportiamo ciaoone top ragazzi poi le nuove emoti con questa cosa qua io sono anche il migliore bello top ragazzi top facciamoci ragazzi un'altra partita perchè non ho una partita troppo poco ragazzi per sto skin tutti i teletrosporti yeah che bello vedere tutti i bot che si teletrosportano guarda già oh mamma mia ma quanto perde vabbè no raga top sta partita è la partita più veloce che è durata nella storia di brawl stars daiga basta mettere un teletrasporto e lo trasporta a un'altra casta nemica e sbam subito troppo easy in pratica ragazzi in pratica ragazzi adesso ho tutte le skin di colt tranne quello la colt corsaro e quello la la che si ottiene a capodanno colt imperiale vedete ragazzi ho questa da originale i rockstar ragazzi i rockstar mi sono pentito di averlo scioppato perchè perchè un amico mi aveva detto a quei tempi ancora non ne capivo in pratica niente di brawl stars un amico mi ha detto colto rockstar fa più danno in realtà poi non era così allora l'ho scioppato è solo incredulone ragazzi ma non proprio perchè ancora non capivo niente di sto gioco l'avevo installato solamente da due mesi ancora non c'era il ball pass ragazzi l'ho installato esattamente a marzo 2018 se non sbaglio 22 marzo la data ma non credo vedete ragazzi tutti i skin vedete questa qui è anche bella figa però ma lo skin più figa che ho è questa fatta anche bene perchè le cuffie erano solo una stella come i suoi colpi e sembra quando ho visto per la prima volta il ball talk hanno messo sta skin io pensavo non è che sta skin la mettono gratis come hanno fatto con shelly stellare perchè si sono viste le cuffie pensavo qualcosa del genere lo super cell proprio non ne vuole sapere di gratis così top guardate il simbolino dietro a proposito di sto simbolo gli vado a mettere il simbolino così ecco esattamente come non lui top ragazzi ragazzi il video finisce così le pistole come ho detto centinaia di volte sono dei cellulari e con il matchmaking aperto come potete vedere da qua e anche qua ragazzi il video finisce qui like in sezione e campanella se volete un video del genere tipo se shop un nuovo pass ragazzi iscrivetevi like e campanella al prossimo video ciao ciao